Per il tempo altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no, hanno dimostrato di non mollare mai, hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Abbiamo assistito a una rimonta, quali sono le tue impressioni? Sono queste Fabio le vittorie che danno più fiducia, quando si pensa di essere in difficoltà, di non riuscire a rimontare una partita e invece poi alla fine ce la fai. Siamo ai titoli di coda, al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Un onore per me, saluto e ringrazio il pubblico da casa. Grazie. 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 Grazie.